Ciao a tutte, nuovo video questa volta giveaway per salutarvi per le vacanze, non perché non ci saranno altri video prossimamente, semplicemente perché questo giveaway durerà tutto il mese delle vacanze e è un giveaway per salutarvi e augurarvi veramente di cuore buonissime vacanze, ovunque voi andrete, qualsiasi cosa farete, sia se andrete al mare, sia se andrete a visitare una città, sia se andrete in montagna, sia semplicemente resterete a casa, di cuore veramente dal mio più profondo del cuore vi auguro buonissime vacanze, perché ognuna di voi, ognuna di noi diciamocelo, ce le meritiamo, dopo un anno tra lavoro, casa, studio, figli chi va a destra, chi va a sinistra, chi si sbatte di qua, chi si sbatte di là, tutti quanti abbiamo bisogno di concederci una vacanza. Quindi io ho in questo giveaway, ci saranno due vincitrici, due, e adesso vi mostrerò i prodotti e vi chiedo di farmi sapere dove andrete in vacanza. Io non ho ancora deciso, prossimamente finalmente prenderò una decisione perché siamo per la verità vedendo una capitale, quindi ancora siamo un po' incerti, sicuramente una capitale del nord, questo ve lo posso dire perché andremo al fresco e poi dopo vedremo la seconda settimana di vacanze che cosa faremo. Quindi ovviamente vi terrò aggiornate, sarete le prime che saprete dove andrò in vacanza e spero che anche voi mi farete sapere dove andrete di bello come passerete le vostre vacanze e dandomi i vostri consigli su alcuni posti ove mai quando avrò scelto la mia vacanza mi saprete dire se ci siete stati oppure no. Allora, prima di tutto regalerò dei prodotti miei preferiti, ci tenevo a regalarveli proprio perché così anche voi possiate provarli, chi li conosce, chi non li conosce sapete che questi sono dei must have secondo me tutte quante noi da avere e quindi andiamo subito a mostrare i prodotti. Allora, prima di tutto per la prima ma non perché la prima sia migliore della seconda o il premio sia più importante della seconda, semplicemente vi dimostro come mi sono arrivati e così li iniziamo a vedere. Allora, prima di tutto per la prima vincitrice ci sarà il gel, eccolo qui, il bronzing gel che voi sapete che è uno dei miei prodotti preferiti in assoluto nella colorazione 62 che è il medio, eccolo qui ve lo apro perché è proprio di vendita. Questo gel sapete quanto io lo ami, quanto lo consiglio da applicare durante l'estate da solo, volendo per scaldare il fondotinta, qualsiasi tipo di fondotinta, quindi voi lo potete applicare tranquillamente sia su un fondotinta fluido sia su un fondotinta compatto e questo è un prodotto che io lo faccio utilizzare sempre anche alla scuola di trucco per dorare il fondotinta. Questo perché? Perché molte volte anche d'inverno la pelle, la nostra pelle per quanto ci trucchiamo appare pallida, quindi anche se il fondotinta ci sembra un po' spento. Quindi io questo lo vado a fare applicare un pochettino miscelato nel palmo della mano dopo aver steso tutto il fondotinta, semplicemente con i polpastrelli e vi da quell'effetto di colore appena dorato senza alterare il colore del fondotinta perché voi sapete che il colore del fondotinta deve essere quanto più similare al nostro collo e quindi serve a risaltare, a scaldare il colore del fondotinta usato d'inverno. D'estate invece è un perfetto alleato contro il caldo, è un prodotto in gel e versione ad acqua, lo usano anche gli uomini, è un fattore di protezione minimo però tranquillamente se voi utilizzate un fattore di protezione più alto o comunque già un solare questo lo potete andare ad applicare sopra, non copre, questo è poco ma sicuro, però tutti vi diranno che cosa è sul viso sembri abbronzata in maniera naturale pur avendo solo questo prodotto e quindi mi fa piacere regalarvelo, ovviamente vedete è chiuso sigillato e quindi questo nasce come uno dei miei prodotti preferiti. Insieme alla terra che infatti sarà uno dei prodotti che vi, non mi ricordo se l'ho messo già nei preferiti di giugno o cioè di luglio oppure lo metterò in agosto, non mi ricordo comunque è uno dei miei prodotti preferiti perché io amo la terra luminosa. Eccola qua, ve la mostro e esce con il suo pennello, lo tolgo perché sennò ho paura che cade perché vi ripeto è proprio nuova e questa è la nuance, è la terra bicolor, quindi voi potete tranquillamente miscelarla per tutto, prenderlo con il pennello, col kabuki e passarla per tutto il viso perché la terra luminosa prettamente si applica per tutto il viso e non per un contouring, io in genere la faccio utilizzare nel periodo estivo dopo aver fatto un contouring oppure da sola ho addirittura di nuovo spolverata su tutta la terra se dovesse essere opaca per dare giusto un punto di colore e la faccio spolverare anche sul collo e sul decolleté, quindi questo è l'abbinamento che io regalo alla prima vincitrice, questo ripeto è il suo pennello mentre invece per la seconda ho deciso di regalare gli ombretti con la tecnica dell'eyeliner in gel, poi vi farò un tutorial perché me l'avete chiesto tantissime di voi, eccolo qui tolgo la, vi mostro senza far cadere i pennelli, il colore, ho scelto i marroni con l'oro quindi per aumentare anche la bronzatura, l'eyeliner in gel che si può utilizzare sia da base agli ombretti perché fa aderire meglio il colore e lo fa mantenere molto più a lungo e sia volendo d'eyeliner proprio come riga sottile in gel, molto molto resistente che è un colore di marrone molto molto scuro, c'è la base che è un oro luminoso un po' come l'olio sotto gli occhi, un diciamo un marroncino dorato meraviglioso e il marrone è opaco, quindi anche per fare uno smokey eye questo veramente è bellissimo e al limite poi vi farò il tutorial perché veramente me l'avete chiesto in tanti sia con questo sia con i grigi che con i prugna che già avevo regalato e vicino il mascara MV Volumizing che è il mascara incurvante che resta sempre un altro must have dei miei prodotti preferiti quindi questo si chiama, lo apro una volta per farlo vedere perché non lo voglio sciupare si chiama ciglia finte effetto Bambi, vedete che ha la curva all'insù e volendo si può utilizzare anche in questo modo girandolo per in questo modo per ricurvarle con la gobbetta all'insù per dare l'infurtimento e quindi dare maggiore volume alla rima cigliare questo per quanto riguarda il secondo, la seconda vincitrice, il secondo o la seconda vincitrice in più per le due vincitrici o vincitori ci sarà anche il sacchetto portatrucco per voi quindi potete portare tranquillamente i vostri trucchi all'interno, delle mini taglie di campioni è carino e comodo in stoffa quindi si può anche lavare ed è molto particolare perché tutto in argento. Le regole per partecipare al giveaway sono quelle di condividere il video nei preferiti, se vi piace mettere il pollice in su, essere principalmente iscritti al mio canale che questa per me è la cosa più importante che vi chiedo e lasciare i commenti quanti ne preferite. Ovviamente vi lascerò nell'info box tutte le notizie di quando si chiuderà il giveaway, vi terrà compagnia per un po' più di tempo delle vostre e nostre vacanze, delle mie vacanze e mi raccomando fatemi sapere dove andrete, cosa farete, come passerete la vostra estate e spero che di cuore il giveaway per voi vi sia piaciuto. Ciao ragazze, buonissima estate, buonissime vacanze veramente di cuore per voi. Ciao!